E' stato arrestato Massimo Passamani, roverettano, leader nazionale del movimento anarchico. E' accusato di associazione volta all'eversione dell'ordine democratico. Tre anni di indagini, migliaia e migliaia di intercettazioni. Questo è il bilancio appunto delle indagini. E questa mattina il blitz con 50 poliziotti fra Trento e Rovereto. Tutti i dettagli di queste lunghe e delicate indagini. Ce le racconta Daniele Benfanti. Per alcuni era a tutti gli effetti il capo dell'anarco-insurrezionalismo italiano in questi ultimi anni. Aveva stabilito la sua base ideologica e operativa in Val di Susa, in Piemonte. In quel campeggio abusivo di Chiomonte, da dove sono partiti vari attacchi al cantiere dell'alta velocità Torino-Lione e alle forze dell'ordine. Per il parlamentare del Partito Democratico, Esposito, era capo dell'ala militare violenta del movimento Notav. Massimo Passamani, classe 72 roverettano, è stato arrestato all'alba dalla Polizia di Stato della Questura di Trento e del Commissariato di Rovereto. Un'operazione anti-anarchici che ha visto protagonisti una cinquantina di agenti alle 6 del mattino. Perquisizioni in casa di diversi anarchici nelle sedi di Trento e Rovereto del movimento. Ecco il risultato. Bastoni, clave, manganelli, coltelli, mazze, caschi e maschere antigas. Tutto all'armamentario di un sovversivo. Passamani è ritenuto responsabile di 28 eventi criminali, quasi tutti avvenuti in provincia di Trento dal 2009 in poi. Tra gli altri l'occupazione di un ex asilo, attentati a tralicci telefonici e televisivi, a un camion dell'esercito, ai treni frecciargento e a un'auto della polfera alla stazione di Rovereto. In più gli vengono addebitati episodi in Val di Susa, a Roma lo scorso ottobre e in Grecia. A parte nostra abbiamo la contestazione dell'articolo 270 bis, che sarebbe l'associazione con finalità di eversione dell'ordine costituzionale, che è un'ipotesi associativa importante, che il giudice ha ritenuto di qualificare come associazione sovversiva. Quello che noi abbiamo cercato di privilegiare con questa contestazione è il perseguire e punire il gruppo, la struttura associativa, dove i singoli reati commessi rappresentano elementi di prova a supporto della contestazione di questo reato associativo. Arresto per Daniela Battisti, 35enne, nata a Rovereto e residente a Calliano. Per lei, domiciliari. Nell'operazione, complessivamente 43 indagati, di quei 8 con ruoli di responsabilità nell'organizzazione. Nei tre anni di indagine raccolte 92.000 ore di immagini setacciate, 18.000 e-mail, controllati 148.000 contatti telefonici e realizzate 10.000 intercettazioni ambientali anche in luoghi pubblici. In apertura di telegiornale torniamo a parlare dell'arresto del leader degli anarchici trentini, Massimo Passamani, avvenuto ieri, ma soprattutto delle reazioni. A Rovereto sono comparse delle scritte di Solidarietà nei confronti di Passamani e anche di Daniela Battisti, che ricordiamo si trova agli arresti domiciliari. Mentre i comitati Notav della Val di Susa, ma anche del Trentino, in un comunicato, scrivono che si tratta di un tentativo di gettare paure sull'intero movimento a pochi giorni dall'inizio del campeggio Notav, che si terrà proprio a Marco di Rovereto, a partire da giovedì. Ma cerchiamo di capire chi è Passamani nel servizio di Raffaele Crocco. È in carcere a Tolmezzo, lontanissimo dal Trentino, Massimo Passamani, l'accusa di aversione di quelle che pesano, che possono costare care. È però assurda, dichiara uno dei suoi difensori, l'avvocato Mattei, il GIP, ha firmato per l'arresto il 2 agosto, dice lo hanno arrestato il 27. Quindi o non ci credono neppure loro, o è da irresponsabile aver lasciato libero per tre settimane un pericoloso terrorista. Insomma, luci e ombre. Passamani è considerato da anni uno dei leader italiani, degli anarcho-insurrezionalisti. Definizione però difficile è quella di leader, per un movimento che poco si identifica con strutture organizzate e strutturali. ...una lunga militanza nella politica contro le istituzioni. Non è un caso che nel volantino che pochi mesi fa a Genova ha rivendicato l'attentato all'amministratore delegato di Finmeccanica e Energia, Roberto Adinolfi, vi fossero frasi tratte da un suo scritto. Forse non è casuale nemmeno che Passamani sia coinvolto nelle lotte contro la TAV in Piemonte e che sia lì uno dei punti di riferimento. Negli anni di militanza da Rovereto ha sviluppato contatti internazionali con gruppi francesi, greci, spagnoli. È stato arrestato più volte l'ultima, clamorosa, quando vi fu lo scippo della fiaccola olimpica. Dalle mani di Eleonora Berlande, pieno centro a Trento, nel 2006, arresti e processi sempre sul filo dell'essere contro questa società. Ora l'accusa è decisamente più seria.